è fortunato cerlino il protagonista della nuova puntata di effetto notte dal ritorno al cinema con american night al racconto di una carriera di successo in cui interpreta tanti ruoli e poi tom cruise in anteprima mondiale di top gun maverick e ancora il docu film elisabeth di roger mitchell questo è molto altro a effetto notte venerdì alle 22 45